salve a tutti allora come prima cosa grazie a tutti i nuovi iscritti e volevo rispondere a oliver oggi oliver mi ha fatto questa domanda prima una precisazione mi ha detto io uso le freccette auros mi pare non mi ricordo con le alette non lisce ma con le alette a forma di palla da golf che mi hai detto che sono queste ok che non sono altro che le dimplex non è che va più dritta con questa è che se con questa ti va dritta con questa ti va un po più più bassa perché perché se io a me che mi si pianta dritta con questa aletta si pianta così se mettessi questa aletta la freccia farebbe così si alzerebbe un po il dietro perché con questa forma qui fa sì che alza il posteriore della freccia perché l'aria si chiude che arriva in maniera diversa e fa sì che si alzi un po il il posteriore della freccia per questo chiaro non è che va più dritta con questa è che si vede che tu hai bisogno di alzare un po il posteriore della freccia detto questo mi ha chiesto come faccio a tirare uno e non tirare uno e cinque e tirare al venti allora questa cosa che mi chiedono i tanti ho risposto in mille video tu hai detto che quando ti rimbasso la tua freccia va sempre alta allo stesso allora secondo me oliver vai a vederti i video degli allenamenti vai a vederti il power training anche solo per vedere come funziona perché all'inizio è un esercizio complicato però vedi tutti i primi esercizi tutte le cose e falli chiaro perché se ti otteri in basso e la freccia va in alto e se tiri sopra vai di qua e di là e non dritta ci deve essere qualcosa nella tua posizione che non è proprio perfetta chiaro quindi bisogna allenarsi un po perché non è che ti dico a prendi così e tiri va dentro no non è così magari fosse così sarebbe una faccia facilissimo ma non è così probabilmente sbagli qualcosa nel tiro in più devi allenarti cercare di fare gli allenamenti poi rispondo a marco che mi ha fatto una domanda voglio un paio di frecce come le van garvan original che pesino un pochino di più che abbiano un po di peso un po più sul davanti giusto caro marco anch'io le cerco se le trovi non ce n'è io non le ho mai trovate ne ho provate migliaia anche di miei amici non le ho mai trovate mai trovate ma pensavo di farmene fare però da stile chiaramente da soft ma io che sia che abbia la presa che sento su quella freccia lino che sia un po più pesante non ho mai trovata non mi ricordo c'era solo una freccia della target di phil taylor che era dritta adesso non mi ricordo bene come come si chiamava ma era similare e io tiravo uguale a quelle lì e mi pare che pesasse 20 non mi ricordo come si chiamava che un po di tempo fa provo a vedere se la vedi è l'unica freccia di da soft di arriva calogero stai attento che c'è il filo calogero sta ammazzarti l'unica freccia di colore così per intendersi aspetta grisa così no solo dritta se la trovi quella ramon freccia non mi ricordo se mi pare che era più pesante della van gerwen se no l'unica freccia che io riesco a usare che ultimamente uso più delle van gerwen sono queste le rvb perché sono più pesanti davanti sono un po più lunghe però tu accorci dietro e quando tu la prendi davanti per te è sempre un cilindro alla fine e questa è l'unica freccia che riesco a usare in questo momento uso mi va molto meglio di le van gerwen perché mi dà molta più costanza nel gioco che le van gerwen quindi non so questo costa un botto caro mio però magari prova quelle dopo queste se volessi pensavo che c'è una versione giapponese che è sui 21 grammi calogero sui 21 grammi ed è buona questa è una freccia strafiga c'è niente da fare quindi questo è oi luca mi ha fatto una domanda non so se mi sta coionando o ro luca è un mio compagno di squadra ma qual è il mio giocatore preferito c'è qual è il giocatore più forte d'italia era allora secondo il mio punto di vista è il giocatore più forte d'italia a quanto insomma poi non ne ho visti tantissimi non ne ho visti tutti un gabriere rollo che sicuramente un gran giocatore io non l'ho visto dal vivo quindi quindi tra quelli che ho visti giocare nocet raffaele nocet daniele nocet scusatemi tanto daniele nocet era il più forte purtroppo purtroppo non c'è più ma lui era secondo me il più forte oggi come oggi è il nostro compagno di squadra luca che secondo me lui è il più forte dai dunque prima o poi lo batterò cazzo comunque secondo me lui è il più forte e per l'altro domani ti risponderò domani chiaro luca saluto a tutti grazie